Benvenuti alla seconda puntata della rubrica A domanda risponde. Oggi tratteremo un argomento molto utile per tanti docenti, alcuni permessi che possono richiedere i docenti. La prima domanda è la seguente. Quanti giorni di permesso retribuito spettano ad un docente per motivi familiari o personali? Ai sensi dell'articolo 15,2 del CCNL 2006-2009, norma confermata anche dall'ultimo contratto collettivo nazionale scuola del 2016-2018, i docenti hanno diritto a 3 più 6 giorni di permesso retribuito per motivi di carattere personale o familiare. In particolare i 6 giorni aggiuntivi possono essere fruiti al posto delle ferie riconosciute ai sensi dell'articolo 13,9 del contratto scuola, ma devono essere richiesti espressamente come permessi retribuiti e non come ferie. La seconda domanda a cui daremo risposta è la seguente. I docenti precari, cioè quelli a tempo determinato, hanno diritto ai permessi retribuiti per motivi personali o familiari? Purtroppo no. Non esiste la possibilità di permessi retribuiti per motivi familiari o personali da attribuire al personale precario della scuola. Ai sensi però, ai sensi dell'articolo 19,7 del contratto collettivo nazionale scuola 2006-2009, al personale docente, educativo e anche al personale ATA, assunto a tempo determinato, sono concessi permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami nel limite di 8 giorni, complessivi per ogni anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono inoltre attribuiti i permessi non retribuiti fino a un massimo di 6 giorni per motivi familiari o personali. Per la terza e ultima domanda, diciamo che i docenti hanno la possibilità di chiedere permessi orari durante lo svolgimento delle attività didattiche, sì, i docenti possono chiedere permessi brevi fino a un massimo di 2 unità orarie di lezione, ovvero pari alla metà dell'orario giornaliero. Il limite massimo di permessi fruibili è, per i docenti, pari al numero di ore di servizio settimanale. Se un docente, per esempio, ha 18 ore settimanali, potrà chiedere 18 ore in un anno di permessi brevi. I permessi brevi sono attribuiti per esigenze personali a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, sia al dipendente con contratto a tempo indeterminato, sia al personale a contratto determinato, cioè ai semplici precari. Vi salutiamo, continuateci a seguire su questa rubrica che va in onda anche nei social tipo Facebook e YouTube. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.